la nostra ospite Rita Siani e ti vede stai portato in rosa stai portato in rosa che ci fai son di? scrive ma quarta puntata ho incontrato delle persone a Milano sono stata a lavorare a Milano complimenti è una cosa stupenda e poi la domenica mi sento bene perché mi sento a Napoli si siedono a tavola e vedono noi scrivono bellissimo questo pezzo molto bene Rita Siani una letra che non è una cosa stupenda che non è una cosa stupenda è una cosa stupenda Stai ormai da scure, pe me, pe me, da stai a spettare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.